la stretta di mano da questo lato presidente si può girare no da questo lato presidente la stretta da questo lato la gente va incontro è un esame di laurea questo commentano presidente addirittura ah c'è un professore è pronto presidente no non ho studiato preparate la lezione vent'anni è tosto è tosto? avete preoccupato? oh ragazzi guarda assieme facciamo un bilaterale oh Rocco il giotto è tonte e poi mi sarà intervistato grazie a tutti